Aveva sparato pensando che fossero ladri, non immaginava che si trattasse di carabinieri. Ne aveva colpiti due, per fortuna senza gravi conseguenze, e l'anziano finito al centro di un'inchiesta, ora conclusa, su un episodio accaduto nella notte del 4 dicembre dello scorso anno a Mirabella e Clano. Erano malviventi travestiti da carabinieri, continuo a ripetere da allora, un ultra novantenne, diventato, suo malgrato, protagonista di una storia che racconta le reazioni alla paura per le incursioni nelle abitazioni. Mirabella è uno dei centri maggiormente tormentati dal fenomeno criminoso. Il pensionato era in casa con la moglie, con loro un abbadante, era stata quest'ultima a far scattare l'allarme. Aveva sentito dei rumori, aveva composto il 112. Anche i coniugi si erano svegliati e lui, in particolare, dopo essersi alzato, aveva imbracciato un fucile da caccia e da una finestra aveva esploso un colpo in direzione di due persone che aveva notato in cortile. Due carabinieri intervenuti dopo la segnalazione del tentativo di furto. Uno era stato centrato all'altezza del torace, protetto da un provvidenziale giubbotto antiproiettile, l'altro era stato ferito alla fronte in modo lieve. Inevitabile la denuncia, mentre l'anziano resta fermo sulle sue posizioni. Erano ladri, travestiti da carabinieri.